Entro fine mese la nave veneziana Mare Ionio dell'organizzazione non governativa Mediterranea Saving Humans tornerà in mare a pattugliare le acque del Mediterraneo Centrale per soccorrere i migranti, l'annuncio del coordinatore della missione, il veneziano Berpecaccia. La nave Mare Ionio di Mediterranea Saving Humans è l'unica nave della flotta del soccorso civile che batte la bandiera italiana. In questo momento si trova nel porto di Trapani, in Sicilia, in cantiere per effettuare alcuni lavori di manutenzione ordinaria per tornare in missione in mare in quel Mediterraneo Centrale dove la nostra presenza è sempre più necessaria. Caccia definisce vergognoso il dibattito di queste ore. Si è fatta propaganda sulla pelle di centinaia di donne, uomini, bambini in difficoltà. Persone che in fuga dalla Libia, in fuga da un paese dove sono rinchiusi in veri e propri campi di concentramento. Ecco perché si ritorna in mare. Noi condanniamo senza mezzi termini il tentativo che c'è stato da parte del governo italiano di porre in essere degli sbarchi selettivi, come li hanno chiamati. È qualcosa di contrario ai più fondamentali principi di umanità. È qualcosa che per prima la Chiesa, con Papa Francesco e i Vescovi della Chiesa Cattolica Italiana, ha condannato.